Esattamente un anno fa, le prime vaccinazioni contro il Covid per i sanitari. Era una domenica uggiosa al San Pio di Benevento e la speranza era davvero tanta. Tutti avevano sperato che con una puntura, magari con un richiamo a distanza di mesi, l'emergenza sanitaria potesse finalmente lasciare spazio alla vita normale. Così non è stato e di somministrazione ormai ce ne sono state tre. Sì, intanto in quello stesso ospedale di Via Pacevecchie le parti Covid sono stati rafforzati nuovamente e si continua a morire. Oggi la 357esima vittima si tratta di un 79enne di Benevento. E sulla situazione sanitaria torna anche a parlare del sindaco di Benevento Clemente Mastella che difende ancora una volta la scelta di chiudere con due giorni di anticipo le scuole. L'Istituto Superiore di Sanità dice che i bambini sono quelli che maggiormente cedono per quanto attiene alla propagazione del virus, è la cosa che ho sostenuto quando è chiuso due giorni le scuole. Omicron è meno intensa nell'efficacia distruttiva della persona. Si muore di meno, però si allarga a dismisura. Può anche comportare, come già vedo pure a Benevento, che c'è l'ingolfamento degli ospedali che è la cosa più drammatica che può succedere. Quindi qualcosa va fatto. Intanto oggi il sindaco Mastella ha firmato un'ordinanza per il divieto di vendita di tutti i tipi di bevande da asporto per il giorno della vigilia e fino all'alba del primo giorno del 2022. Io faccio le mie misure in conseguenza con quello che vedo e quello che realizzo. Se vedo un particolare aumento vertiginoso degli studenti, chiudo le scuole. Se questo aumento non c'è, non chiudo le scuole, non è che lo faccio per bizzarria.